Buongiorno, sono la dottoressa Calimberti. Oggi vorrei parlare del disturbo del comportamento alimentare, ponendo l'accento sul fatto che i disturbi del comportamento alimentare, nonostante si fosse sempre pensato che connotassero soprattutto il genere femminile, in realtà colpiscono anche i maschi. Questa visione era soprattutto presente nel XX secolo. Si è sempre pensato che la prevalenza fosse totalmente femminile e che se avesse colpito anche gli uomini era in modo sottostimato e comunque in modo atipico. Negli ultimi decenni numerosi studi empirici di notevole importanza scientifica hanno innanzitutto evidenziato che la prevalenza non era quella che si pensava. Nel XX secolo si pensava che il rapporto fosse da 1 a 10. Adesso invece ci si è reso conto che il rapporto è 1 a 4, quindi è notevolmente cambiato la prevalenza, quindi non possono essere considerati dei sottogruppi o comunque dei comportamenti alimentari atipici. Inoltre la gravità sintomatologica è comparabile a quella femminile. Cerchiamo di capire perché è accaduto questo. Innanzitutto perché è molto difficile individuare i criteri diagnostici per quanto riguarda il disturbo nei maschi. Questo perché i maschi non sono mai stati inseriti negli studi di controllo e questo ha facilitato un orientamento terapeutico e diagnostico che prendesse come punto di riferimento solo le manifestazioni cliniche femminile. Facciamo un esempio. La menorrea secondaria. È ovvio che la mancanza di mestruazione è tipica delle donne, non può essere tipica degli uomini. Ciò nonostante, questo non è del tutto vero perché non sono stati fatti degli studi approfonditi da un punto di vista scientifico per quanto riguarda le alterazioni ormonali che possono avvenire anche nei maschi. C'è stata poi un'interrore trasformazione. Per quanto riguarda il manuale diagnostico, il DSM, nel quarto c'era la menorrea come un criterio fondamentale per poter diagnosticare l'anoressia nervosa. Poi si sono resi conto che non era così fondamentale perché esistono casi dove c'è un peso ponderale molto basso ciò nonostante ci sono le mesturazioni oppure pesi ponderali normali in assenza di mesturazione. Quindi l'hanno tolto come criterio. Già questo equilibria i due sessi. Infatti nell'ultima versione del DSM, il DSM quinto, il punto focale che definisce i disturbi del comportamento alimentare è un'eccessiva preoccupazione per il peso e le forme corporee e questo allinea sia i maschi che le femmine. Quindi l'immagine corporea diventa focale per i disturbi alimentari. Non solo. Anche l'eccessiva preoccupazione per il corpo come la disprecezione corporea o come i sentimenti di autosvalutazione e di svilimento sono tutti criteri che definiscono i disturbi del comportamento alimentare e che possono essere naturalmente declinati sia al maschile che al femminile. Non c'è più quella differenza sostanziale se si guardano gli disturbi alimentari da questa prospettiva. Al di là delle sintomatologie, il punto focale, il nucleo psicopatologico di questi disturbi è un'eccessiva preoccupazione per il corpo e le forme fisiche. Come abbiamo detto quindi, l'immagine corporea riveste il cuore principale per i disturbi del comportamento alimentare. Detto ciò, proprio perché si parla di immagine corporea ci sono delle differenze tra maschi e femmine. Differenze legate a input anche socioculturali. Innanzitutto, per le femmine, l'immagine corporea è legata all'ideale di magrezza. Cosa che non avviene invece per gli uomini, che non è legata all'ideale di magrezza. Tutt'altro, l'uomo non ha paura di prendere peso. L'uomo è molto più centrato su avere un corpo tonico e possibilmente muscoloso. Un'altra differenza sostanziale è che negli uomini i meccanismi di compenso come il vomito, i lassativi, i diuretici sono molto meno prevalenti. Difficilmente i maschi utilizzano questi meccanismi di compenso. Invece utilizzano soprattutto lo sport. Lo sport diventa centrale come meccanismo di compenso e per tenere sotto controllo la forma fisica diventa proprio il punto centrale della loro vita. Tipico dei bodybuilder, che sono concentratissimi sulla percezione del proprio corpo, nel misurarsi costantemente, nel continuare a fare check per vedere quanto sono grossi, quanto misurano. Gli estremi sono anche naturalmente l'utilizzazione di steroidi. sono casi limite, però non possiamo non escluderli. Ho cercato di spiegarvi quali sono le somiglianze e le differenze tra disturbi e comportamenti alimentari femminili e maschili. Detto ciò, vorrei accennarvi a un fenomeno di sofferenza psicopatologica che negli ultimi decenni sta prendendo sempre più forma. La bigoressia. La bigoressia deriva dal inglese big, grande e orexis, appetito, dal greco. È una forma psicopatologica, come ho detto, di grave sofferenza. C'è un'estrema preoccupazione anche qui per il proprio corpo e le forme corporee. Attualmente non ha inserito nessun tipo di criterio diagnostico scientifico e riconosciuto. Non ci sono studi scientifici abbastanza accurati. Però è sempre più diffusa. Viene anche un pochino considerata come un'anoressia a rovescio, inversa. Perché è proprio all'opposto. Mentre per le anoressiche femmine la magrezza è spinta all'estremo, per i bigoressici è invece la muscolarità che è spinta all'estremo. Ma proprio a livelli eccessivi. E anche qui ci sono dei comportamenti alimentari molto molto gravi. Perché sono ossessionati da quello che mangiano, sono ossessionati da certe categorie che non devono essere toccate come carboidrati, di solito seguono una dieta iperproteica che ha delle conseguenze mediche terrificanti come un aggravamento a livello renale. Quindi non è entrata ancora a far parte nell'essere una vera e propria malattia però sta prendendo sempre più piene. In conclusione volevo dirvi che i disturbi alimentari che siano femminili o maschili poco ha importanza. Sono un disagio. La sofferenza non ha identità di genere. Il disagio è democratico. quindi al di là di questa mia piccola conversazione per sensibilizzarvi al problema dei disturbi alimentari maschile e vi invito a leggere l'articolo perché è molto più dettagliato per me è importante dirvi che qualsiasi tipo di sofferenza parliamo in questo caso di disturbi alimentari va presa sul serio va affrontata va curata perché se ne può uscire e non bisogna avere vergogna di chiedere aiuto e mi rivolgo soprattutto i maschi perché soprattutto perché loro vivono in una in una gabbia perché essere compressi culturalmente di avere un certo tipo di corpo che deve avere certe fattezze è ugualmente terribile come per le donne che devono essere magre che devono avere dei canoni irraggiungibili è una trappola e si sta male quindi non abbiate paura di chiedere aiuto potete rivolgervi ovunque naturalmente noi siamo a vostra disposizione il centro clinico Bonarrotti ha esperti in questi tipi di patologie e siamo pronti a rispondere a qualsiasi tipo di vostra domanda grazie grazie a tutti